Salve a tutti, buon tutto. Ah, voglio dire un mio modo di vedere le cose su Facebook. Vedo certe persone che sono irrispettose sia nei loro profili, perché non mettono tutti i dati, tutti i dati primari per conoscervi nei profili. Questo è il sintomo di irrispetto. Poi, seconda cosa, un altro sintomo di irrispetto è condividere le cose senza mia autorizzazione, mio modo di pensare. Anche se c'è la scritta condividi, ipertesto condividi, non tutte le immagini si possono condividere. E poi tocca chiedere sempre il per favore, più che altro, di condividere le cose alle persone. Non che si entra nei profili a casaccia e si vede una bella cosa, un bel posto, e allora si condivide senza autorizzazione. No. Ci vuole educazione. Ci vuole educazione. Se non avete questa educazione civile, è inutile che state nei social. Siete solo ladri di post altrui. Ecco. Che ne sapete se io voglio o non voglio che mi si condividano le cose? Non trovatemi la scusa che sono cose pubbliche, che metto cose pubbliche. Allora tutti possono condividere. Non è così. Non è così. Il mio profilo, anche se è gestito da Facebook, perché sta dentro Facebook, oppure in altri social, è stato a sé. Se vedete. Perché io metto tutte le informazioni che voglio. Posto quello che voglio, ma dove voglio io. Ecco. Un conto se li posto io, e un conto se li postate voi. Le mie cose. Le mie cose me li gestisco io, dove voglio che si devono visualizzare. O mettere like. O commentare. Ma non è che dovete condividere senza il permesso mio. Perché a me mi è stato sempre insegnato che bisogna chiedere sempre il permesso alle persone. Anche alzando la mano. Oppure scrivendo. Posso condividere questo post? Mi piace moltissimo. E allora io vi dico se è possibile oppure no. Non è che si fa casaccio. Infatti ho dovuto bloccare uno per questo motivo. Oltre che nel profilo non ha messo tutte le informazioni. Ecco, non ha messo... Cioè, la foto del profilo ce l'aveva. Quello si faceva vedere. Però... Non aveva messo tutte le informazioni che voglio io. Cioè, nel profilo. Eh. L'ha messo alcune ma non tutte. Dovete mettere tutte le informazioni che vi chiede Facebook nel profilo. Lo stato sentimentale. La data di nascita. Ehm... Nome e cognome. Poi se avete anche nomi di battesimo. Anche nomi di battesimo. Tanto meglio. Ehm... Non nickname, eh. Perché nickname sono cose che non si devono mettere. Perché non riesci a conoscere le persone con i nickname. Secondo me. Secondo il mio pensiero. E poi... La foto del proprio volto nel profilo. Poi... Dove lavorate. Se lavorate. E... In che città vivete. Di che origine siete di città. Queste cose. Dove avete studiato. Che cosa avete studiato. Queste cose li dovete mettere. Non vedete il mio profilo? Dove essere di esempio il mio profilo. Non vedete come è strutturato? Eh... Perché le persone serie vogliono circondarsi di persone serie. Ok? E oneste. E le persone oneste e serie non vengono a rubare i post altrui. Alle persone. Chiedono. Chiedono se possono. Ma siccome l'educazione non vi entra in testa. E allora dopo non mi trovate più. Perché vi blocco. Non mi trovate più. Perché io non voglio fare numero. Nei vostri profili. Solo per farvi rubare robe mie. Se volete. Per esempio. Se volete salutare per l'ultima volta quella inviata. Quella giornalista. Perché non create un vostro fotomontaggio. Con fotoroom. Eh... Perché dovete venire a prendere il mio? Perché? Perché è una cosa originale? Eh no. Mi dispiace. Ma le cose... Sì, saranno sempre originali. Però... È una cosa che ho fatto io. Capito? Avete capito questo? È più bello... Se fate un fotomontaggio voi. Eh... Perché dovete prendere poste altrui? Perché lo dovete prendere così? Senza autorizzazione. Sembra bullismo nei miei confronti. Anzi, cyberbullismo. Ecco. Perché mi rovinate... La vita... La vita qui dentro. Nella mente. Mi state distruggendo piano piano. Moralmente. Mi state facendo essere più guerriera. E io non mollo. Non mollo la presa. Io continuerò. Finché vivo continuerò a combattere. Per queste cose. Io voglio le cose giuste. Voglio giustizia. E siccome oggi... È la giornata internazionale contro il bullismo. Non dovete fare queste cose. Gente. Ma sempre. 365 giorni all'anno. Deve essere il giorno contro il bullismo. E il cyberbullismo. Ecco. Perché non ci deve... Non deve esistere. Non ci deve essere. Ci deve essere più rispetto. Più educazione. Se vi piace una cosa. Mettete solo mi piace. Ok. E la visualizzate. O casomai. Se volete farla vedere ad altre persone. Li menzionate nei commenti. Ecco. Così a meno mi iscrivete. A meno. Ecco. Perché dovete... Mettela nei vostri propri... Per farvi scrivere a voi? Le persone? Nei commenti? E a me non mi deve scrivere nessuno? Ecco perché non voglio che si condividano le mie cose. Se non le condivido io. Io. Sia bene chiaro questo discorso. Che vi entri in testa. Se io non vi vengo a prendere le robe vostre. E allora anche voi dovete fare la stessa cosa. Con me. Però chi la fa l'aspetti. Da me. Aspetti qualcosa da me. Qualche arrabbiatura.